Buongiorno a tutti, allora proseguiamo la giornatona del Gigione e visto che c'è fermo il campionato ne approfittiamo per fare un po' di rubricona del Gigione di Cold News perché siamo veramente in arretrata adesso vedrò di ripartire, finirò tutte quelle che ho di novembre, dicembre, quelle che ci sono e poi recupereremo tutte quelle dell'anno scorso, quelle che riuscirò a recuperare perché vedo che comunque ce ne sono talmente tante e tutti i giorni ce ne sono di nuove solo che preferisco fare le Cold News perché ora che io carico un video di news nuove ormai sono già vecchie quindi è meglio andare sulle Cold News che sono sempre notizie curiose e interessanti che magari erano sfuggite ai tempi, qua no di sicuro perché la prima notizia sicuramente sarà sfuggita di più però ci tengo perché è una notizia che riguarda un posto dove ho iniziato a vivere i primi 12, 13 anni, quasi 14 anni ho vissuto in quel quartiere poi mi sono trasferito in un altro quartiere ancora più libidinoso e poi mi sono trasferito qua sul lago e ormai resterò qua sul lago Comunque andiamo a leggere la prima notizia l'esmercato del QT8 che era appunto il quartiere dove ho vissuto da 0 a quasi 14 anni diventerà un museo sbarre e ingressi murati per impedire l'accesso a sbandati e senza tetto poi via i lavori per la trasformazione della struttura abbandonata da anni nel nuovo centro di arti visive la notizia del 31 ottobre 2020 quindi procedono i lavori di messa in sicurezza dell'esmercato comunale del QT8 quartiere residenziale milanese noto per il parco del Monte Stella di cui io parlo spesso quando dico io sono il Monte Stella gli altri sono l'Everest, il Monte Bianco eccetera eccetera abbandonato da anni dopo la progressiva chiusura dei negozi al suo interno era diventato un rifugio per sbandati e senza tetto in questi giorni gli operai hanno sistemato recinzioni solide e murato alcuni varchi subito dopo sarà potenziata l'illuminazione della via l'esmercato coperto verrà poi recuperato come sede del nuovo centro di arti visive il CASVA, un museo i lavori dovrebbero iniziare a fine primavera cioè dovrebbero essere già iniziati dalla fine della primavera del 2021 quindi si spera che magari per quest'anno per quest'anno non cambiare c'è il c'è il c'è il museo al QT8 ma vedremo magari c'è già il museo al QT8 non ho guardato poi magari nell'infoboss vi metto sì c'è il museo al QT8 e potete andarlo a vedere io purtroppo allora ai tempi il mercatino del QT8 era una cosa bellissima ve la racconto velocemente avevamo il macellaio c'era anche l'ombino della panetteria vuole i gnocchetti signora sembrava un incrocio tra Battantuono e quel personaggio che faceva spesso il caratterista di un po' cicciottello con la barba che con Jimmy il fenomeno facevano sempre i caratteristi dei film e faceva vuole i gnocchetti signora e ogni tanto prendevamo mezzo chilo di gnocchi anche per mangiarli al volo non ci diceva lo sfilatino per te c'è sempre però era un tipo così poi c'era il pollivendolo c'era il salumiere e io andavo a farla piccolino 6-7 anni attraversavo la strada perché noi abitavamo dentro una via chiusa attraversavi la strada eri nel mercato comunale facevo il giro con i miei soldini avevo la mia lista che la mamma mi dava e prendevo tutto poi tornavo a casa ogni tanto rompevo le uova perché arrivavo a casa e c'era sempre un uovo rotto e mia mamma ecco hai rotto l'uovo dobbiamo fare l'uovo suo vabbè facciamo l'uovo comunque ragazzoli gli ho raccontato un po' di cose del passato andiamo a questa notizia brutta 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 del 31 ottobre 2020 è venuto a mancare lui o non è lui è lui o non è lui certo che lui il mitico James Bond morto Sean Connery l'attore aveva 90 anni scompare una vera e propria leggenda del cinema secondo molti il miglior 007 della storia notizia appunto del 31 ottobre 2020 quindi di un anno e direi tre mesi fa più o meno è morto a 90 anni Sean Connery il più famoso attore scozzese del mondo il lutto per il mondo del cinema è stato ufficializzato dal sito della BBC che cita fonti interne alla famiglia dell'attore Sean Connery fu il primo indimenticabile interpreti di James Bond per molti critici cinematografici l'unico e il migliore ma ha anche dimostrato nella sua lunghissima carriera una grande versatilità che lo ha portato a conquistare anche un Oscar nel 1988 come miglior attore protagonista per gli untouchable gli intoccabili a fianco di Robert Danilo e Kevin Costant oltre che due BAFTA e tre Golden Globes anche se poi l'attore scozzese deve la sua fama mondiale al ciclo di sette film della saga di 007 nata nel 1953 dalla penna dello scrittore britannico Jan Fleming nominato Sir dalla regina del 2000 l'attore ha interpretato diversi altri film di successo tra cui Caccia Ottobre Rosso Indiana Jones e l'ultima cruciata è The Rock e poi vabbè se andiamo a tutta la filmografia di Sean Connery finiamo domani mattina potremmo parlare anche di High Glander se non ero c'era anche di High Glander magari dico una fetecchiata al massimo mi dite Gigi hai detto una fetecchiata fa niente veniamo a questa notizia che invece è curiosa una notizia curiosa che riguarda noi single proprio nel periodo pieno di pandemia perché stiamo parlando di notizia del fine ottobre 2020 quindi in piena pandemia globale totale adesso siamo sempre in pandemia ma diciamo che è un attimino tra virgolette più tranquilla parte in Italia perché va bene noi dobbiamo sempre discutirci in peggio ma negli altri paesi stanno cominciando ad abbassare la guardia come si suol dire veniamo a questa storia sui single ma noi single avremmo mai pensato di invidiare le coppie felici diciamocelo come direbbe qualcuno fuori dai denti non è un gran periodo per nessuno neanche per le persone single i single non sembrano contemplati nelle direttive di governo così come sono escluse quelle persone che non identificano i loro affetti nella famiglia di sangue eppure veniamo richiamati a contare su affetti di sangue stabili dimenticando però che non per tutti famiglia vuol dire posto sicuro come si traduce tutto ciò per i single? non possiamo ritenere che i rapporti occasionali siano sicuri in questo momento in merito alla sessualità al di fuori della coppia stabile si naviga nel buio per chi volesse incontrare qualcuno di nuovo che sia per solo sesso o per cercare qualcosa di più che possibilità ci sono adesso? a me sembra come quando si cercano stagisti con esperienza una persona che cerca lavoro dovrà pur aver cominciato da un grado zero della sua esperienza eppure accade che al colloquio per uno stage le si chieda che esperienza abbia già maturato sembra paradossale ecco se si vuole costruire una relazione bisogna pur cominciare da qualche parte anche da sconosciuti eventualmente dunque da una fase di frequentazione in cui non si conosce bene l'altro e per forza di cose neanche le sue abitudini sociali dalle quali dedurre il rischio di contagio intanto il governo ci raccomanda fortemente di non invitare ospiti in casa ossia persone non conviventi è comprensibile poiché ogni nuovo contatto di cui non sappiamo nulla aumenta i rischi di contagio eppure il 77,6% dei contagi avviene dentro le mura domestiche proprio tra quelle persone delle quali presumiamo di sapere tutto dunque chi ha una sorta di lasciapassare per l'affettività e la sessualità oggi è che ha già uno una partner stabile e molti single si staranno trovando inevitabilmente a invidiarle è stato fortunato chi in estate ha voluto approfittare della molta relativa calma dei contagi per buttarsi nella mischia ed è riemerso dall'oressa stringendo tra le mani un nuovo amore seppure quei rischi del caso messo tra la parentesi ma per chi per vari motivi depressione paura responsabilità è rimasto in panchina a guardare sembra non restare altro che attendere un nuovo giro di boa e invidiare le copie quelle felici si intende quando magari per anni si è difesa con orgoglio la propria solitudine ovvero l'altra faccia dell'indipendenza qualcun altro si consola dicendosi che essendo single almeno non deve dar conto a una persona in casa che odia o con la quale ci sono attriti ma la verità è che avere un partner col quale condividere la quotidianità e gesti di affetto e rapporti sessuali per chi lo desidera è una mancanza tangibile per molti in questo periodo nel frattempo quindi si rimani soli e sole si possono avere amici e familiari c'è chi però non ha neanche quelli ma quel tipo di affettività e ho bisogno di intimità quelle categorie di affetti non possono sopperire non per tutti quantomeno non tutti infatti hanno amici con i quali vanno d'accordo a cui vogliono bene e con i quali al contempo possono avere anche rapporti sessuali i cosiddetti trombamici o trombamiche se a quel punto debbano essere chiamati amici o affetti stabili o qualcos'altro è molto soggettivo dunque queste riflessioni sono state condivise in una community e a quanto pare molti single si sentono così da mesi e non se ne parla se non dicendo fate sesso con la mascherina o non fatelo proprio questa solitudine va ad impattare su una generazione di giovani che già ha visto il covid sottrarle sogni e futuro secondo secondo un'indagine dell'istituto toniolo sugli under 35 italiani il 51% degli intervistati dopo lo scoppio dell'emergenza covid abbrezza di più il valore della propria vita un dato che fa pensare a un approccio comunque ottimista dei giovani in questo periodo o quantomeno di rivalutazione delle proprie priorità seppure dichiarino anche la loro situazione economica sia peggiorata il 51,5% di contro per il 40% sembra essere migliorata la gestione del tempo libero alcuni segnali possibili non sono rincuoranti come quelli delineati in uno studio condotto dagli esperti dell'università della california secondo cui ci aspetterebbe un futuro con più single poiché le coppie che si sono conosciute online potrebbero non reggere il confronto con l'incontro dal vivo e questo potrebbe scoraggiare dal cercare nuove relazioni rimanendo single più a lungo non vedo soluzioni pronte purtroppo i rischi sono reali e non ci si può scherzare ognuno deciderà sulla propria coscienza oppure sceglierà di attendere che passi la mareggiata bene ragazzoli fatemi sapere voi se siete single non siete single se siete felici di essere single a prescindere dal covid e quindi indifferentemente dal covid sareste restati single se siete dei one touch and go una toccata una botte via per intenderci avete questa fortuna di poter rimbalzare da una all'altra se come in un film di pierazioni avete mini mignotta che arriva oggi sono mini mignotta e quindi nel senso avete la tromba mica non la mignotta ecco poi se qualcuno va a mignotta e sono affari suoi non me lo venga a scrivere ecco eviterei già abbiamo il nostro amico che ci mette tutte le escort che ci sono a colico e dintorni di due per tre nel gruppo calcio ci mette la foto di una signorina ecco per intenderci più o meno vestita e mette colico o piantedo o il paesino dopo eccetera eccetera va bene lasciamo perdere queste cose qua comunque detto questo ragazzoli spero di avervi fatto fare delle riflessioni sul fatto dei singoli io sinceramente se la trovo bene se non la trovo sto da solo per mettermi con una che si è mangiata una lavatrice ne faccio meno per intenderci c'è gente che sta con le lavatrici e ci piacciono le lavatrici i frigoriferi le lavastoviglie i cubi di Rubik io sinceramente eviterei detto questo ci vediamo alla prossima ciao 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 Grazie.